Dottor Bosato, cosa significa cambiare direzione alla propria carriera a 40 anni? Significa rimettersi in gioco, significa decidere dopo 20 anni in una funzione, in finance, per quello che è stata la mia esperienza, di cambiare, di passare al commerciale. Volevo condividere con i ragazzi che intervengono oggi come essere pronti a questi cambiamenti quando il treno passa, come coglierli e come sopravvivere a questi cambiamenti. E quali sono i consigli che darà? I consigli sono di rimanere sempre con la mente aperta, perché le opportunità passano ma bisogna essere pronti a coglierle, di saper parlare all'interno dell'azienda con chi non è uno specialista nella tua area, saper parlare il linguaggio degli altri, avere la mente aperta e far sapere all'azienda, al top management, che sia disponibile a nuove esperienze. E come possono coltivare questi aspetti di competenze, di soft skill gli studenti oggi? Io direi con la curiosità, curiosità intellettuale, di conoscere, parlare con tutti, parlare anche con chi magari non capisce i tuoi tecnicismi e di cui tu non capisci i tecnicismi, ma mente aperta a condividere e capire il business, le dinamiche di business, perché alla fine tutti viviamo le stesse dinamiche di business indipendentemente dalla funzione. Quindi parlare molto, condividere e non essere diciamo arroganti e supponenti nella propria torre d'avorio. Grazie a tutti.